In bocca al lupo! Ma in questo momento l'unica cosa che voglio è un confronto con lui. No raga, non è raga. Ma non è scomera mia. C'è un costumino verde. Ma muoviti. Raga, è mio. È tuo? È tuo. Gabriele? No raga, è donato. È un po' di più. Oddio. Vabbè, devo dire... La prima è in parte da lontano. Sta lontano, eh. Con i dieci del ragazzo. È bello, eh. È buono, è buono. Inchiacini! La prima... Come stai? Ma non è vero. Mi ha saputo un po' di più. Mi ha saputo, mi ha saputo. La prima sfera. È lì, te sei. È un po' di più. Un piacere. Alla, tu arrivo. Grazie. Guarda, non è arrivato. Bene, e tu come stai? Io bene. Non eri fidanzata? Mi sono lasciata. Questi ragazzi stronzi. Se no non ero qua. Che è successo? Tu fai parte del club, no? Io sono uscito dal club. Sei uscito dal club degli stronzi? Ma... Ma se è aggressivo, mamma mia. Oh, è venuta carica, eh. Io non so niente di te da un anno praticamente, quindi... Mamma mia! Sono rimasto coerente a me stesso, single. Ah, infatti. Anima libera. Penso pure tu sei anima libera che stessi qua, no? Certo. Allora... Bello, bello, bello. E che bello che sia bello. Mamma sei contento, vero, eh? Sì. Un po' di magone ce l'ho, eh. Non lo vedevo da un po'. Fa sempre effetto, alla fine. No? Stai abbastando le difese, eh. Un po' mi vuoi bene. Io sì, io l'ho detto già. Cosa? Cosa? Tu lo vedi? Anche io ti voglio bene. Ragazzi, ci siamo incontrati qua, ci siamo conosciuti qua, è nato tutto qua. Quindi, rivederlo qua è anche questo l'effetto. È anche questo. È stato importante per me, no? Quindi... Sicuramente fa... Non è un ex così. Purtroppo è bello, lo sa, no? Io c'ho un po' una testa fresca. Ho provato a fare qualcosavolta. Oddio, dov'è, eh? Mamma mia. Ma che devo leggere io? Ovviamente. Bentornato ad Ex on the Beach Donato. Grazie. Tu e Giulia avete tante cose da raccontarvi, abbiamo preparato una... Oddio, wow! Faccio l'appuntamento che vi aiuterà a rileggere meglio la vostra storia. Che bello! Sei contenta? E andiamo? Vai, amo! In bocca al lupo! Ma in questo momento l'unica cosa che voglio è un confronto con lui. Parlarci sicuramente. Mi raccomando, eh! Ciao! Tosta, ragazzi. È stato un po' un pugno in faccia, eh! Vediamo come ti comporta, perché li vedo contenti che sei sorrivista. Lo doi. No? Spero che li tornassi. Quasi, no? C'è un po' un pugno in particolare. No? No! Si... Quei un pugno in particolare. E un pugno in particolare!